Il prossimo 6 marzo, durante la cerimonia al Giardino dei Giusti per la Giornata Europea, dedicheremo un albero e un cippo a Rocco Chinnici, inaugurando così il filone dei giusti contro la mafia. Qual è l'importanza di onorare la figura di Rocco Chinnici e qual è l'importanza di cominciare proprio con questa figura a parlare di giusti contro la mafia? Rocco Chinnici è stato uno dei più grandi magistrati che ha avuto la lotta contro la mafia, è stato un simbolo anche per il modo in cui la mafia ha deciso di eliminarlo, è stato il primo che è stato destinatario di un'autobomba, un magistrato che ha avuto coraggio, che ha intuito la necessità di istituire un gruppo di lavoro, di fare un pull antimafia anche al Palazzo di Giustizia di Palermo. Poi questa idea venne realizzata da Antonio Caponnetto, ma lui ebbe questa intuizione per primo anche di mettersi accanto ai giudici che valevano di più. Credo che sia stato ucciso per aver cercato di salire in alto nelle responsabilità di copertura, di complicità su cui poteva contare la mafia, credo in particolare verso i rapporti politico-finanziari di Cosa Nostra. Aveva scelto anche di andare a parlare nelle scuole, ha seguito l'esempio di mio padre. Credo davvero che sia stato un punto di riferimento importante per tanti magistrati, forze dell'ordine e anche per i giovani di allora, perché a volte la legalità è ingiusta, la legalità manca di rispetto per le vite delle persone, quindi non è una legalità a prescindere, è una legalità fondata sul rispetto della persona e trova la sua forza nel rispetto della persona, nel rispetto di principi di solidarietà, di giustizia, ecco, perché deve essere la legalità giusta. I giusti sono uomini che si sono presi una responsabilità, o donne che si sono presi una responsabilità e che hanno scelto di non guardare da un'altra parte, quando la storia interpellava in modo più radicale, capaci anche di uscire dalla loro biografia per diventare giusti proprio in virtù dell'assunzione di una responsabilità, senza la quale credo che sia molto difficile costruire una società generosa, una società rispettosa e una società giusta. Mi ricordo un ragazzo che disse, voi parlate delle dittature nel mondo, ma la mafia è una dittatura, la dittatura non è sempre totalitaria, ma io credo che la mafia rappresenti un potere totalitario con una pretesa di governo generale, di una società, delle persone, sopporta a malapena la figura del dissidente isolato, ecco, è l'unico spazio che venga consentito.